diverse evoluzioni per i ballerini è sicuramente più difficile, però noi sappiamo che siete bravissimi e quindi vogliamo vedere la vostra bravura. Nanni, Sara, Riccardo e Morena fanno parte del gruppo folk su Garruzzo, un gruppo storico che è stato fondato nel 1976. Fate un applauso a questi ragazzi e a queste ragazze. Vado che avete il tifo. Forza Nanni, sei tu Nanni, un amico. Vieni tu qui a ballare sul palco, vediamo se vieni. Allora, se Paolo è pronto, vi lascio subito il palco su Baluzopu o Bicchiri. Paolo Virdis vi accompagna. Nanni, Sara, Riccardo e Morena. Prego. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.